Però quello che a mio giudizio manca in questo momento nel nostro partito è da un lato la consapevolezza storica del lavoro che stiamo facendo. Storica. Io lo dico così, storica. Noi stiamo restituendo all'Italia speranza, orgoglio, entusiasmo e passione. Questo è un fatto storico. E stiamo facendo una riforma che sia nelle condizioni di recuperare fiducia e credibilità nel nostro Paese, con tutti i nostri limiti. E lo stiamo facendo in un momento in cui non riusciamo neanche a raccontare fuori che nel mese di aprile, il primo del Jobs Act, e il Jobs Act non è soltanto la riforma del diritto del lavoro ma è anche gli incentivi contenuti in stabilità, il primo mese dell'effetto pieno si fanno 159 mila posti di lavoro in più. E quando una parte del sindacato dice che questo è un regalo agli imprenditori perché si stabilizzano posti di lavoro che già ci sono, io dico preferisco avere un posto di lavoro che era precario e diventa stabile, ad avere un posto di lavoro che rimane precario. E quando noi abbiamo ConfCommercio che dice, anche tra mille polemiche, che i consumi tornano a crescere tra aprile 2015 e aprile 2014, più 0,8 e Banca d'Italia dice che gli 80 euro sono spesi per il 90%, stupendo anche me, non l'avrei mai detto ma mi fido in questo caso molto più dell'ufficio studi della Banca d'Italia che non del mio naso, siamo in presenza di un fatto che l'Italia sta recuperando confidenza e fiducia sul futuro. Esattamente nel momento in cui questo accade ci sarebbe bisogno di un PD che faccia il PD.